musica 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 forse puoi perchè te spawni sempre dalle altre parti? non lo so secondo me doveva spawnare cosa lì? qui, vedi? mi tiene troppo forte o? vedi? che cazzo è? ha ha i made it si ma devi sparare nel coso devi sparare nella finestrella che c'è lì davanti non dove sono io non dove sono io genio perchè sei ritardato? ma io non ti vedo io non ti sto vedendo cazzo io non ti sto vedendo quindi non posso sparare addosso a te cristo tu non c'eri nel mio gioco eh ma hai rotto quel blocco orso? no no eh genio dimmi quale stronza di un misere che non devo dire le parolacce ma c'è l'omino orso? si che c'è ma dove? ma qui si è introiato qualcosa altro che l'omino no davanti ai pistoni che si muovono c'è una finestra eh ci devi sparare dentro mi sa io ci ho sparato dentro ed è comparso io ho provato a sparare ah ah merda ma ma che cavolo è che bisogna andare qua? non c'è più o meno spawnato nel coso di là no non va per la puttana non va non va sto aggeggio oh però oh no orso ma ragazzi tu dove sei adesso? io sono qui sono dietro orso tu orso mi vedi? eh lì dentro ma devi farlo quando sei sopra quei pistoni quello lì non puoi farlo più ma no ce n'è uno qua ce n'è uno qui tario è qui sopra è la finestrella ma sei un pezzo di merda allora ti ho detto davanti ai pistoni che si muovono quanti ne vedi di pistoni che si muovono? ecco non riesco neanche a tornare indietro adesso ma un cazzo qua mi fai a caricare la frezza mentre sei lì su? oh adesso va ecco l'ho preso tario devi saltare su tutti i pistoni ho capito dammi un attimo di tempo eh il cazzo è la merda dammi allora no ho odiato ma che stronzo gioco aah no fa il culo ma si qua facciamo il tempo a finire le frecce piuttosto si so schmel merda ma ci sarò io tra l'altro sto anche morendo ecco il posto di bistecchi gran bistecch ma se vuole una carota questo? me la fa mangiare la bistecca? io l'ho fatto ma perchè? ma fa il culo miseria ma che a me favo già la bistecca? col tasso adesso perchè non c'hai fame ad esempio ma giusto furbo anche te c'è merda non puoi saltare mentre te ne ho so caricato non è difficile da capire ma come si fa a caricare mentre ce la fai a caricarlo? perchè io ce la faccio? ma non ce l'omino non ce l'omino mother fuck l'omino vedi che l'hai fatto vai il bombo io l'ho fatto sono già qui sono già a casa adesso sono già a casa use nukes use nox nukes ah nukes dice di usare le bombe atoniche orso non lo puoi fare da qui one will need one shot to dodge cos'è ci sparano ce l'ho fatta sono arrivato si mother fucker è bloccato tutto perchè sono fermo qui immobile io p1 p2 p3 p4 psd dai 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 dormire qua dormire p2 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 ma che ci sono i bottoni apposta ma davvero? non bisogna usare i cheat bisogna usarli tutti i cheat invece ma perchè siete fissati i cheat? andate a letto ah io sono già a letto io sono già a letto io sono già a letto bravo orso io non ci sto vedendo orso comunque oh oh ah eh on the battle still one scoccia chi è che va per primo uuuuh scusami aia 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 aiuto aiuto aia 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 no 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 oddio quanti ce n'è? perderò un centimetro ero un centimetro aia però però tadaaa miseria oh dimmi di si dimmi che entro dimmi che entro e sono entrato scusami con mezzo cuore scusami con mezzo cuore ah sono passato ci sono bloccate lol ah si? ah ce ne sono delle altre qui va bene certo aspetta che mi regenero la vita che ecco no no quasi regatta levati 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 vado no ho preso il volo oh 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 dimmi di si no no nooo ma io mi teletrasporta anche a me lol vai mo vai mo io? eh ho tre cuori ma che cazzo frega mica devi farti beccare lo scopo è non farti beccare oh dimmi no ma merda ma sempre ecco si infatti coglione duro io sono arrivato io sono arrivato ma perchè ti teletrasporti da me? sono morto tanto? certo perchè ti ho tirato una fretta perchè ero su un cubetto solo ma hai spiegato? e io l'ho già fatto Dario sono alla fine che te lo fai? tipiii da foo orso che tanto orso sicuramente non l'ha fatto oh oh io sono arrivato ok si è bugato vai oh Oddio, 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 oddio! C***o al c***o! Si, quasi! Ci sono le teste dei mostri qui! Aspetta che ci sono pochi cuori! Uh! Si però! Un po' fatidio eh! È un macello! Però, l'ho preso! Io sono dai letti, se non avete voglia di farlo! No, no, aspetta, aspetta! Non sia mai che io usi cheat, scherzi! No, infatti, è vero! Ah, ma qui è un safe! Forse lo ti vedo dentro alla testa! Quando arrivi nell'angolo è safe, certo! Eh, allora non avevo mica capito io! Io lo volevo fare proprio pirata! Fan culo? Ma... Devi fare solo un saldo lì! Guarda che quando arrivi all'ultimo è safe, anche quello! Però... Ma perché non corre sto imbecille di m***a? Perché sono caduto sotto? Non lo so però! Per tornare all'inizio! Ma corre! Salta troppo sto ritardato! Ecco sì, va a fan culo, c***o! Oh, teletrasportatevi da me, facciamo prima! No, no, aspetta! Il cazzo! Io voglio vincere! Voglio vincere o morire! Ah, è vero! Salta troppo! Salta tu che salto io! Porca! Porco! Sono salvo! Allora aspetta, hai cheat e la finestra? Non so cosa hai di più! Che è la finestra? Finestra? No, adesso urlo però, eh! Non mi sta neanche teletraspostando! Merda sto server! Sto regast! Cosa vuoi? Non è lag! Sì che è lag! Firmo, firmo, firmo! Che sarebbe! No, ci sono riattivate! Dai! Prova pure! Cosa fai? Aspetta che ho tre cuore in mezzo, un attimo! Eh no, allora vado io! Aspetta, vai un attimo nel... Non vedo un cazzo con la tua testa in mezzo! Saltare non è la risposta, Orto! Perché? Mi metto così! Siete tutti e due sul bambino finale? Sì! Sono arrivato! Vaffanculo! No! Ma cos... Ma scusami, dove bisogna arrivare alla fine? Devi sparare alle persone che ci sono? Non c'è una persona lì! Sì! Io non vedo persone! Perché invece le trasportate qua? Io non ho le trasportate da nessuna parte! Viene scritto se vengono le trasporto! Ma vaffanculo! Le trasporto! Siete arrivati all'ultimo blocchetto! Se guardate dentro bene, ci sono delle persone da sparare! E se non ci sono persone, è un bug grafico! Sparate lo stesso! Appunto! Ah no! Ok! L'ho visto! Bomb in the face! Quindi? Capito no! Piota! In the face! Bomb! Ucciso! Morto! Duro! Soccia miseria! Orso, vuoi fare un salto qui? No! Stavo già scrivendo io! Sì! Troppo bravo! No! Piano piano no! Devo essere il P4! Io me ne frego! Vado dove voglio! Eh! Ha detto ragazzo che non va bene! Io seguo! Chi tra l'inizio! Pare che io non lo vedo orso! Oddio! C'è un test... Sei qui tra noi orso! Vai! Vai! Uhuhuu! Posso venire anch'io? Aiuto! Aiuto! No! No! Non ti vado io! Ah! Ecco! Ma lol! Ma perchè tu sei rimente invisibile! Ora ti vedo! Dove va lo mio? Tu spara e lo uccidi! Sì! Ci siamo atti insieme! Dobbiamo scendere i... Veri Umi! Veri Umi! Sì! Ma! Che cazzo! Eh! Io scappoli! Mi capicchio adesso! Vaffanculo! C'è! Addio! No! Ah sì! Io sono passato eh! Ma te l'hai tratturato di nuovo! Fanculo! Ma cosa? Ci sarebbero sti... Scusa! E come sei? Dove sei passato? Devi... Devi tirare dritto e andare nella porta che c'è davanti a te? Ci sono dei pistoni per te! Sì! Ma che cazzo! Oh! Non scontatemi il mondo eh! No! Io sono arrivato alla fine credo! Spara tu! Ah no! Forse è arrivato alla fine! Non sei in mezzo ritardato! Spara tu! Abbiamo... Abbiamo messo un easter egg! Ho mezzo qua un attimo! Aspetta! Aspetta! Ecco! Abbiamo messato un easter egg! Perchè non si apre sta porta di merda?! Oh si è aperta! Si è aperta! Si è aperta! Sono... Sono tornato... No! No! Nooo! Te l'hai trasportato! Mi hai trasportato all'inizio! Ma come ce lo rifai? Te sei morto! Ma come ce lo rifai? Ma cazzo! Ma io... Io... Io passo attraverso sta porta? Che tra l'altro non si ha... Eh sì! Ma vaffanculo cazzo! Dovete farli insieme! Dovete farli insieme! Io ti tiro agli stecchia sti cosi! Io ce l'ho fatta! Io sono più forte si sa! Eh sì! È più forte a... Scoreggiare! Vedi che non si apre! Fermo! 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 Oppui? Senti! Quelli stanno picchiando tra di loro! Aspetta che li uccido! E adesso? Quando entri! Boh! Ti dovrebbe teletrasportare! Non mi sembra! Io sono entrato e mi ha teletrasportato! Dove? O dovete ucciderli! Perché io mi sa che ne ho ucciso uno! Ah! Two of these plates send you back! Orso! Pijamò! Orso è qui! Orso è qui! Orso è qui! Quello è nato a destra! Ma invece! Perché non hai preso lo stesso di orso? Perché non ho visto quale ha premuto! Ehi! Bravo! Adesso lo rifai! Fa un culo al cazzo! MISERIO! OOOOOO! AQUI DI BORDO! 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 Il primo in alto a destra! No! Il primo in alto a destra l'ho già pigiato! Dove l'hai tirato fuori questo? Ah! Tutta la roba che hai preso! Il primo in alto a destra è entrando! Eeeh! Sì! No! E' quello che ho avvisato prima cazzo! Io sono entrato, ho corso dritto e sono passato! Oh! Eccoti! Oh! Andiamo avanti! Nooo! 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 Sì! Ma Cristo! Mi hanno tornato prima! Vaffanculo! Io l'ho fatto però! Anch'io l'ho fatto! Anch'io l'ho fatto! Eh bene! Anch'io l'ho fatto! Guarda qui! Merda! Sono troppo bravo! Sono troppo bravo! Quindi? Dov'è? A diventare notte si dorme di nuovo! Ma non c'è scritto P1, P2, P3, P4! Nel letto che volete! Merda rega! Non sai un cazzo! All'inizio ce l'ha scritto che se non si... Non è vero niente! Dici boiatevi! Va bene! Allora dopo quando riguarderai il video Leggerai che all'inizio ce l'ho scritto Dov'è? Sennò si fucca dato! Mi faccio merda a me! Certo! Vado giù io? Siamo tutti giù! Cos'è sta droga? Ho trovato un easter egg! Mi ha vinto? Non lo so! Cos'è sta merda? Bisogna salire qua! Ad occhio si! Eh già! Oh! C'è prrrr! Ho sparato io! Si orso! Scusa! Fate sempre le cose una alla volta vero eh? Che non vi venga in mente di fare una alla volta Sono dentro il tuo cranio! Nice 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 rice nice Raising! Toy boat! Toy boat! Toy boat! Come Alice è la cucina lavatrice! Nice nice! Ah! Mi sono cagato al dosso! Ecco! Sì! Toy boat! 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 Nera! Questo mi ha fatto paura sul serio! Eh! T'ho detto! Come? Guardate qua dentro! Oh! Non è un problema mio! Guarda! Guarda qua dentro! Cos'è? Oh! I'm sure you can figure out what to do here! Vero! Prendetveli tutti eh! Così se morite! Eh sì! Magari i pantaloni mi servirebbero a me! Cos'è? Instant health 2? Io ho preso 12 iraniti! Io ho bisogno dei pantaloni! Oh bene! Prendine solo quattro orso! Se muori poi non ce ne hai più! Cos'è che dici? Si ri ha tutto quello che si ha? Vabbè! Allora proviamo! Ma scusami! Quante volte sei morto già dall'inizio te? Non te ne sei mai accorto che c'hai di nuovo la roba come prima? C'è una... Sì! Pazzo maniaco! Cosa fai? Cosa bisogna fare scusa? Bisogna farsi saltare? Cioè saltare! Sì! Ecco perché c'è la cosa di diamante! Aspetta allora! Sì ma non ha senso! Scusa eh! Solo questo blocco funziona! L'ho fatto prima io com'è? L'ho! Io lo so! Effettivamente non è sbagliato eh! Chi l'ha detto che dobbiamo far saltarla? Scusa eh! Chi l'ha detto? Guarda un po'! Good job! Aspetta ma se io faccio così e faccio così? Ecco! C'è scritto infatti! Good job you realize you can't be the root of the TNT! Ah! Siete proprio più furbi eh! Siete più furbi guarda! Scusami eh! Non hai mai fatto sbagliare un cazzo! E questa... Oh! C'è della lava qui! Ah! Ah! Che re dire! Dove siete caduti giù? Nel buco! Oh! C'ho due blocco of iron! Cosa serve? Sì! Venite qui! This can't be good! Vieni qui! Io? Qua! Sono qua! Carro nella lava? C'è una cesta! Sì sì! Dai dai su! Esci dal filo e vai sul filo! Ma avete visto che c'era la cesta lì sopra? Ma ha tolto tutta la merda! Sì! C'erano due ceste qua sopra! Use this! E poi c'era anche una... Forse ti muovi? Ah! Guarda cosa c'era qui! Vai sul filo! Socia! Deng! Metti! Se hai la roba nell' easter egg mettila dentro la cesta! Se no vai sul filo! Socia! Puoi dare il nome alle armi ora? So questo se vuoi! Bellissimo! Questo dov'era scusa? In una cesta scusa! Vai dentro la cesta! Vai nella cesta! Vai sul filo! Sul filo! Sul filo! E? E quindi? E boh! Basta! Perché non... Rivacci! Lol! Orso è industribile! Orso è bugato! Che è diverso! Dove fai lo te? Non so se no che non abbiamo più l'armatura di diamante! Io ce l'ho! Ho capito! Quindi che cazzo si fa adesso? Si è finito o no? Non aprite la cesta! Oh! Passo! No! Non scoppiano! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma io dico che voi mi fate girare un po' le palle! Ma io? Ma sei scemo! Io non sto facendo niente! Io sto guardando! Tu ne hai già sputtanato uno! Di cosa? Fai così! Di easter egg? Oh! Sbuttanato! Parla scoppiare così salta la quanti anni là! Sei l'unico che c'ha l'arco e non ce l'hai incendiante! No! Appunto no! C'è un tripwire qua per terra! Cosa è un tripwire? Quello? Si va bene! Trappola! Dai! Sveglia! L'ho rotto! Cos'hai rotto? Perché l'hai rotto? Tripwire! Cosa stai facendo? Ossio! Va bene! Ciao! Ah non va! No! No ancora! Ah no! E' stato quello stronzo! Io sono tutti in mano però! Sono in mano? Ma da dove siamo riparati? Sai perché magari non funziona? Perché qualcuno avendo fatto esplodere tutto ha rotto la roba che si stava qua dietro! Nooo! Ma dai! Come si fa adesso? Possiamo già ricominciare da capo! No no! Andiamo avanti adesso! Col cazzo che ricominciamo a capo! Mice! Mice! Dice! La cucina lavatrice! Ok! This will make you? Ah ok! Ma perché? Perché ti sei teleportato da me? Come perché? Perché io... Io stavo facendo questo e tutti senti li trasportati in mezzo ai maroni! Eh senti! In mezzo ai maroni! Ah giù! Cos'è sta roba? Wow! E come? Ma cosa bisogna fare scusa? Dove bisogna saltare dove? Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho arrivata! Quasi! Quasi! Ho capito! No bastardo! Quasi! No! Oh sì! Oh sì! Attenzione! Attenzione! Che è la... Intanto ti riporta qui perché devi andare nell'altro! Nel altro bottone! Ma che... Ma che spara le frecce? Che è che spara le frecce? È quella a fare davanti! Cos'è l'altro bottone? Sì! Vabbè Dario! Eh senti! Biondo! Stai un po' caccato! Subito! Oh! Ma dov'è che bisogna andare? Se non l'ho capito! Io sono qua dentro e... Ah! Quindi... Ah! C'è un pollo lì da uccidere! Ma scusa! Ma allora io non ho più! Perché è lì l'arco! Già stanno al barbo! Ok! Funziona! Jaffa Cake! Io prendo il Jaffa Cake! Sì! Perchè stai usati sempre qua? No! Sì! Ok! Sono sotto adesso? Eh! Devi cercare di uccidere il pollo mentre... Ma che pollo? Ma porca puttana! Non devi andare lì Orso! Dove devo andare? Sotto? Sotto? Hai detto sono sotto? Merda stiaffari! Gesù! Ah vabbè è buggato tanto! Dov'è il tuo pollo? Dov'è? È lì sotto Orso! Sinistra, a destra, su! Ma va fa il corso! Ho volato giù! Merda ma non ci si riesce! Ah! Ragazzo! Sei volato giù per tu? Sembra! L'ho ucciso! Ce l'ho fatta! Aiuto! Mi ha spawnato anche me! Grazie che mi hai picchiato! Eh volevo spegnere sto fuoco! Scusa vai a letto! Hold space to reduce full damage! Vai a letto! Vado a letto! Però! Bello! Forse è il migliore come sempre! Teleporta the naked guy! Però! Però! Ti sei teletrasportato su daffo che era a letto! E quindi t'ha detto che c'è la cosa nel muro! Dai cazzo! Riteletrasportati! Tonto! Aia! Mi sono accendiato! Ho preso fuoco! Ok! Portatevi nella lava! A occhio! Di qua! Qua manca qualcosa! Sì! Funziona! Dove cazzo c'è? Io l'ho già fatto infatti! Però! Già riuscire a cadere nella lavato! Fatto! Forne che bisogna fare! Sotto c'è dell'altra lava! Sì ma! Si muore tipo! Ah! Ci sono i colti per scendere! Sì ma vai affanculo! Sì ma! Come fai a riuscire ad passare tra la lava? Vai! Vai! No! Io muoio! Eh? Ma tu ti hai premuto spazio! Non so! Ma ti sembra che io ti ho premuto spazio cristo! Beh! Mi senti proprio quello che furbo qui mezzo! Ragazzi! Dai! Su! Sveglia! Io non ci arrivo! Non ci arrivo! Muoio prima! Cioè! Vengo bruciato prima! Non c'è modo! Io passo! C'ho! C'ho! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto cuori c'ho! Dio! De Dio! Ma scusate! Devo arrivare nella lava? Ma! Tuffati! Fai salvati così di più velocemente! Cos'è che faccio? Tuffati nella lava! Nel quadretto di lava! Mi sono tuffato! Ok! Mi tuffo nella lava! Poi dopo! Se devo arrivare nell'altra lava! Non ce la farò mai ad arrivare! Non bruciato! Nell'altra lava! Oh! Sì! Quasi! Poi laggo! Poi tutto! Evidentemente perché tu non laghi! Cazzo! Io ho quattro cuori adesso! Ecco! Sono nella lava! E in the ground ward! Ma vaffanita! Cazzo è sta merda! No! Ce l'ho fatta! Io sono sceso! Io ho tre cuori e mezzo! C'era un creeper! Io sono fuori! Ok! Tre cuori e mezzo! Ma di nuovo! Ma tanto sotto la lava passi istantaneamente! Non devi rimanersi! Non devi tornare a galla! Ragazzi! Il laggio ti fa bruciare e perdere la vita! Ok! Dio! Mmm! Pezzi di merda! Miseria! Tra i tuoi sui mi lava! Non ci riesco! Non ci si riesce! Oso mi dai la tua stronzata armatura! Dami un'armatura! Dami un'armatura! Dammela! Dico! Merda! Sì! A trovare il saritcolino quello giusto! Be' l'hai fatta orso! E' quelli in basso a destra! E' quelli in basso a nav.. Cadere in quelli in basso a destra! Guarda che te le stai anche riprendendo Fesso Ti sei ripreso Metà roba Tira della più vicino eh No ci sono i creeper Porca puttana Ci sono creeper in tutti Oh ci sono Ah Cristo No buono no buono Ma aiuti portare con la armatura Aiuto Sì ma continua la spawn Ma il creeper No no Sono fermo ora Sono dentro Sono nel buco Però non so cosa fare Nooo Mi liquida me Mi liquida me Mi liquida me Mi liquida me E poi? Perché io Io sono sopra un pulsante Lo so Lo so Io sono andato in tutti i buchi E in tutti ci sono tre bottoni E uno senza Ma tutti fanno spawnare creeper Io c'ho L'inventario pieno di Io sto andando a un FPS Passante 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 Ma che fallimento totale Che siamo Rega Che si sale No No Non va Non sta andando Basta Io sono fuori Sì, io sono fuori che vado a un FPS Vedo il tronco Il tronco della torre Fuori da dove? Aiuto E come sei riuscito? Ma geniale Teletrasportarmi da te Che due coglioni Direi che la possiamo Finire qua, secondo me Ecco, disconnector from se No, server cross Si è arrabbiato, rega Un po' Perché? Dimmi mo' perché Che è una merda No, è stata bellissima È stata una bella mappa, fine, basta Ciao, rega Non so neanche quante puntate siamo andati avanti, tra l'altro Però troppe Secondo me tre o quattro Se accettano scommesse Salutate, per favore Così siamo tutti contenti Merda, rega Come finite le puntate voi Proprio non le finisce nessuno Ciao, eh